Grazie Antone, ma la mia presenza qui, soprattutto per l'ingraziamento che non vuole essere semplicemente formato, ma soprattutto un grazie a nome e all'amministrazione scolastico e a mio personale per le emozioni e sensazioni che avete personalmente fornito a tutti quanti noi, ma in modo particolare l'ho sottoscritto, perché mi sono sentito con la vostra esperienza di tipo culturale veramente significativa, importante, veramente arricchito sull'aspetto umano della persona, perché questa esperienza che avete vissuto dà un'interiore dimostrazione che la scuola in provincia di di carri veramente viventi arrivano. Quindi, a nome mio personale, la dimostrazione non è che fare assoluto per la seconda volta, perché è da doveroso che sono conti di ragazza, essere presente perché è una grossissima soddisfazione interiore, mia personale, ma mi auguro anche di ragazza, ma che è una cosa più importante. Quindi, soprattutto perché avete dato una dimostrazione con l'ausilio dei docenti a coniugare in modo armonioso per le vostre sensibilità e con una lettura e interpretazione con voi, dei docenti, avete dimostrato una vostra parentesa e un Io mi auguro che questa esperienza sia un'esperienza con il modello spettabile della tutta la luce, perché è veramente significativa, che ha dato ulteriori dimostrazioni che voi giovani, in mezzo, all'interno dei giovani, siamo veramente vivi e possiamo veramente dare, costruire insieme un percorso formativo adeguato per il vostro effettivo. Grazie, grazie e velocità. Grazie.